Iniziamo con la squadra dei piccoli, il team esordienti dentro, esordienti bianco e blu, un applauso, abbiamo anche la mascotte Un applauso, under 14% bianco, under 14% bianco, under 14% bianco è nata 99.000 e ora gli allenatori Bex Alessandro un applauso Bex Antonio un applauso all'elettorio del 2016 Coach Maurizio